Vi era un tempo quando avvicinandosi l'inverno si era soliti fare provviste con acquisti a buon mercato nelle fiere. Quello che accade anche oggi a Mondolfo dove il 26 settembre è la secolare fiera di Santa Giustina, la festa patrona della città e del comune che torna ad essere occasione per visitare uno dei borghi più belli d'Italia per apprezzarla anche attraverso i commercianti, senza poi perdere sguardi di storia, cultura e arte nei musei civici e non solo, come non ricordare la stazione di posta per il cambio dei cavalli in epoca romana, quale presidio commerciale legata anche all'abbazia di San Gervasio. Santa Giustina ci ricorda come uno dei borghi più belli d'Italia sia luogo di commerci e scambi fin da tempi più antichi. Avete fatto acquisti alla fiera? Poco, il minimo indispensabile. E' sempre un bel momento comunque per passare. Certo, oggi poi è una bellissima giornata, si fa una passeggiata, si incontrano gli amici, si fanno chiacchiere con un amico o un'amica che incontri, con i negozianti che conosciamo, i venditori. Tutti gli anni qui? Un giretto sì, tanto noi siamo di qua. Ancora no, però un giro sì. Un giro sì e poi volevamo passare qua a prendere la borraccia ecologica. Ecco quindi un occhio all'ambiente. Un occhio all'ambiente, sì, anche per lui, educarlo comunque all'ambiente, a tenerlo pulito. Tu hai il futuro nelle mani, quindi l'ambiente è importante. Sì, molto. Allora, venire alla fiera può essere occasione anche per avvicinarsi a questo mondo degli animali, trovatelli. Esatto, noi siamo qui, siamo l'associazione Randaggi nel Cuore, ci occupiamo di randagismo felino nel nostro territorio, che è purtroppo un problema molto serio. E quindi fate una pesca di benvenuti? Facciamo sì, una pesca per bambini, una pesca per adulti e comunque sono tutte cose che servono per aiutarci a sostenere i nostri progetti, per aiutare i gatti più sfortunati. Avete fatto acquisti alla fiera? Siete turisti, state girate? Sì. Turisti da dove? Da Como. Da Como? Da Como. Ecco, come le sembra qui Mondolfo? Siamo appena arrivati, comunque sembra un bel borgo, un bel borgo più bello di Italia. Esatto. Poi avete beccato anche la fiera, quindi l'utile direzione. Certo, ecco, non lo sapevamo, è una cosa così, nuova. Così per caso, cosa avete comprato? Per farmi i fatti mostri. Porchetta? Porchetta? Porchetta, mi sembra giusto. Anche il gusto vuole la sua parte. Esatto. Porchetta in questi posti... È d'obbligo. È d'obbligo, certo. Allora, buon appetito. Grazie, anche a voi. Grazie a voi.